Concorso Centrale Unica Emergenza, ad oggi nessuna delibera lo ha annullato. Lo ha dichiarato il Presidente Rossi che ha rimandato la questione alla prossima riunione di Giunta. Colpo di scena nella vicenda legata al contestato concorso per le assunzioni alla nuova Centrale Unica dell'Emergenza. Il Presidente Rossi ha dichiarato non c'è alcun atto ufficiale della Giunta che parli di annullamento appunto di questo concorso. Franco Pistolato. Ad oggi non c'è nessun annullamento nel senso che venerdì la Giunta ne ha parlato ed è una decisione che evidentemente richiede un grado di riflessione approfondito. Una smentita che arriva tre giorni dopo l'uscita della notizia a tutela, sottolinea Rossi, del servizio della Centrale Unica dell'Emergenza che sta funzionando benissimo. Dei partecipanti al concorso e della commissione esaminatrice presieduta da Luisa Zappini. Sul fatto che la dirigente Zappini abbia intrattenuto rapporti di collaborazione con i vincitori di concorso ormai nessun dubbio. La Giunta a rispetto delle minoranze venerdì prossimo approfondirà ancora l'argomento ma il Presidente è chiaro. Abbiamo motivi di ritenere che le procedure del concorso non evidenzino problematiche in termini di procedura. Il collegamento tra le conoscenze o meno, questo va valutato sotto un profilo esclusivamente giuridico e non fattuale. Si vuole una dimostrazione che abbia inficiato la procedura. Rossi rifiuta infine con decisione l'accostamento fatto da qualcuno tra l'appalto annullato del notte e questa vicenda.